L'Unione per il Mediterraneo è un'idea, un progetto lanciato da Sarkozy, è una buona idea. Non escludo qualche malizia da parte francese e di giocare ruolo di leadership nel Mediterraneo e di usarlo in quel momento magari in chiave elettorale, tuttavia è e rimane una buona idea. È l'idea di ricreare un progetto di paternariato strategico con i paesi dell'area mediterranea è un progetto che vuole partire dal trattato di Barcellona ma tuttavia superarne i limiti e anche il fallimento di fatto. L'Italia ha deciso di sposare il progetto, quindi non solo appoggiarlo ma anche di giocare un suo ruolo. Vi partecipano tutta l'Unione Europea e tutti i paesi che si affacciano nel sud del Mediterraneo. Cambia un po' l'ottica che è stata la base del fallimento del trattato di Barcellona, ovvero mentre il trattato di Barcellona è poco riuscito a coinvolgere i paesi dell'area sud del Mediterraneo, questa Unione per il Mediterraneo vorrebbe realmente partire da un serio intento di conership, cioè di condivisione reale dei progetti tra i paesi del nord mediterraneo e quelli del sud mediterraneo. È un progetto che si nutre e dovrebbe nutrirsi di progetti concreti, fattibili, finanziabili e quindi noi lavoriamo perché non fallisca e di questo ci auguriamo perché io penso che noi abbiamo una sola vera grande arma per uscire dal bivio la bomba dal Medio Oriente o la bomba sul Medio Oriente e la vera grande arma è accompagnarne lo sviluppo, perché l'estremismo, lei sa, si nutre di disperazione, di mancanza di speranza, non c'è pace dove si muore di fame. Intanto il ruolo dell'Italia che un po' si contende questa leadership mediterranea è quello di portare progetti. Stiamo discutendo di un ruolo nella direzione generale del segretariato che sarà lo strumento che valuterà e darà poi avvio operativo ai progetti. Noi portiamo inizialmente due progetti, uno che riguarda lo sviluppo delle piccole e medie imprese e l'altro che riguarda la sicurezza condivisa nel Mediterraneo, uno è un progetto fin meccanica, l'altro è un progetto che vorrebbe essere un network che collega tutte le agenzie di sviluppo che si occupano di piccole e medie imprese, perché noi pensiamo che la piccola e medie imprese non sia solo un modello economico, ma sia anche un modello sociale di sviluppo, quella che ha consentito a tanti operai del nostro paese di diventare imprenditori.